Allora, in questo video vediamo una cosa molto semplice, come conoscere gli scatti che ha realizzato una macchina digitale. Magari vogliamo comprarla e vogliamo capire che vita ha. Noi sappiamo che una macchina Reflex può fare 100.000-150.000 scatti e vediamo, insomma, acquistandola o prima di acquistarla, la sua vita. Io vi consiglio un semplice passaggio, andate su Camera Shutter Count e vi si apre, vedete, cercate e vi si apre questo sito qui, Camera Shutter Count. A questo punto, prima scattate una foto con la scheda di qualcosa, qualsiasi cosa, e poi la foto che avete realizzata con la scheda la inserite sul PC. A questo punto questo sito vi dirà di scegliere il file, io ho fatto una foto, in questo caso, con una Reflex piuttosto vecchia, ma in realtà nuova perché ha solo 1.500 scatti e già l'avevo controllato prima. Vedete, apro il file e Upload, vedete, il sito mi dà la vita della macchina fotografica. Addirittura questo sito ci dice che ha 1.489 scatti, la mia Nikon D5.000 e mi dice anche la sua vita, che percentuale di vita ha realizzato. Loro calcono all'incirca 150.000 scatti, è evidente, perché mi dice che questa macchina fotografica ha, fino adesso, utilizzato soltanto l'1% delle sue prestazioni. Quindi, praticamente, è una macchina nuova. È una questione molto semplice da realizzare, ci serve per capire, soprattutto prima di acquistare un prodotto usato, il reale utilizzo che ne è stato fatto. Spero sia stato utile, se vi piace questo video e pensate che possa essere utile nel nostro canale, potete mettere mi piace. Grazie mille.